Le ordinanze di custodia cotelare sono state eseguite questa mattina dai carabinieri della compagnia di Canicattini ai confronti di tre donne e un uomo accusati di spaccio di sostanze stupefacenti. Appartenenti a due diversi nuclei familiari, tutti e quattro residenti nella stessa palazzina di Viale della Vittoria, ma in due diversi alloggi popolari, gestivano anche in competizione tra di loro una fiorente piazza di spaccio di sostanze stupefacenti, eroina, cocaina e marijuana. Spaccio che avveniva dunque nel centro storico della città, nella zona confinante con la villa comunale, diventata luogo di frequentazione dei tossicodipendenti provenienti anche dai paesi vicini. Non solo la droga in pieno lockdown, proprio sotto casa uno degli appartenenti alle due famiglie aveva pensato bene di dedicarsi alla vendita abusiva di mascherine e generi sanitari. Si erano anche preoccupati di controllare costantemente la zona, i carabinieri di Canicattì a conclusione dell'operazione hanno infatti rimosso otto telecamere posizionate ai lati della palazzina, anche per controllare l'eventuale arrivo di forze dell'ordine. Stamattina il blitz dei carabinieri che hanno circondato l'immobile e poi fatto eruzione all'interno, a conclusione di una lunga attività investigativa che ha permesso di monitorare innumerevoli episodi di cessione di stupefacenti e segnalare alla competente autorità 16 assuntori sequestrando diverse decine di grammi di eroina e cocaina. Le indagini coordinata dalla Procura della Repubblica di Agrigento hanno consentito di fare luce anche sullo spregiudicato modus operandi degli indagati registrati mentre dichiaravano di intendere come un vero e proprio lavoro lo spaccio degli stupefacenti e colti nell'impiego dei figli minori come veicolo per il trasporto della droga. Una delle indagate era stata trovata in possesso di sette dosi di cocaina nascoste nel proprio abbigliamento intimo mentre altre erano state occultate in quello della figlia undicenne. Nel corso dell'operazione i carabinieri hanno perquisito tutta la palazzina con l'ausilio di due unità del nucleo cinofili di Palermo che hanno consentito di rimanere e sequestrare alcune dosi di marijuana confezionate e pronte per essere rivendute.